ciao mario cos'è che stai bevendo poi non puoi guidare buon aperitivo a tutti arrivederci vado un attimo in redazione arrivo subito arrivo immantinente che bello cari amici largo valentino sta diventando veramente una città nella città anzi un paesino all'interno della città c'è tutto qua c'è anche una bella piazza adesso abbiamo anche il bar i bambini vengano a giocare ci sono un sacco di negozi insomma si sta bene buon 25 aprile a tutti e adesso andiamo in redazione a montare questo filmato grazie grazie grazie